Siamo? Oh, che bello. Bellissima giornata di sole. Allora, benvenuti, buongiorno a tutti, il sesto trofeo della secchia gratuita. Guardate che bella giornata che ci accogli oggi qui in piazza Grande a Modena, veramente una meraviglia per tutti noi, una meraviglia anche il parco macchine che avremo modo di vedere da vicino. A partenza, ricordiamo, sarà alle ore 11. Martino, salviato, moglie. No, è la numero 20 questa. Francesco Potter e Zamberlan, è una 70 cavalli questa dell'ottanto. Poter e Zamberlan, non l'abbiamo visto. Tutto bene, no, no, perché c'è il numero 20.